La chiave che apre la porta del regno di Dio è l'amore al prossimo. Nel proclamare sei nuovi santi, gli italiani Giovanni Antonio Farina, Ludovico da Casoria, Nicola da Longobardi, Amato Ronconi e gli indiani Curiacose Elias Chavara ed Eufrasia e Luvatingal, vissuti in gran parte nell'Ottocento e testimoni di una straordinaria creatività caritativa, Papa Francesco li ha indicati alla folla in Piazza San Pietro come modelli del fatto che riconoscere Cristo come re non vuol dire genuflettersi a un astratto concetto di regalità, ma imitare concretamente la sua misericordia, specie con i più poveri. Il Vangelo dell'ultima domenica dell'anno liturgico, con la celebre pagina del giudizio finale, ricorda, afferma Papa Francesco, che la vicinanza e la tenerezza sono la regola di vita per ogni cristiano e solo su questo protocollo verrà valutata ogni esistenza alla fine del mondo. I sacerdoti in particolare, ha detto il Papa, non si allontanino da questo modello perché il popolo di Dio sa distinguere i buoni pastori dai mercenari. Alla sera della vita saremo giudicate sull'amore, sulla prossimità e sulla tenerezza verso i fratelli. Gesù, con la sua vittoria, ci ha aperto il suo regno, ma sta a ciascuno di noi entrarvi. Già a partire di questa vita il regno comincia adesso, facendosi concretamente prossimo al fratello che chiede pane, vestito, accoglienza, solidarietà, catechesi. Alla preghiera dell'Angelus, che ha concluso la celebrazione, Papa Francesco ha ringraziato i fedeli delle diocesi di provenienza dei nuovi santi e ha soggiunto. Per intercessione dei due santi indiani, provenienti dal Kerala, grande terra di fede e di vocazioni sacerdotali e religiose, il Signore conceda un nuovo impulso missionario alla Chiesa che è in India, che è tanto brava, affinché, ispirandosi al loro esempio di concordia e riconciliazione, i cristiani dell'India proseguano nel cammino della solidarietà e della convivenza fraterna.